E quindi iniziamo a rispondere a questa domanda, cioè appunto a definire il seminato in cui ci muoviamo, cioè di cosa si occupa il diritto d'autore sostanzialmente, no? Prima vi ho detto che appunto ci sono altri istituti giuridici, altre forme di tutela che si chiamano brevetto marchio, che si occupano di altro. Noi invece qua siamo nel campo della tutela delle opere dell'ingegno, questa roba qua, opere dell'ingegno di carattere creativo, questo va, come dire, memorizzato bene perché tornerà per tutto il nostro corso, cioè l'opera dell'ingegno di carattere creativo è l'oggetto della tutela del diritto d'autore per la legge italiana in generale, per, diciamo, tutti gli ordinamenti europei che derivano dal modello francese come il nostro. E vedete che carattere creativo già dice molto, nel senso che il carattere creativo è il requisito fondante che fa scattare la tutela del diritto d'autore, ovvero, dette in altre parole, se non c'è creatività, se non c'è carattere creativo, non c'è neanche diritto d'autore. E' molto semplificato, però in questa frase davvero c'è tutta l'essenza del diritto d'autore, ovvero, se scrivo un brano musicale, ma quel brano musicale è semplicemente la riproduzione di una base sintetizzata che ho trovato in un sequencer, in una tastiera, anche se quella cosa lì l'ho fatta io e penso di aver fatto chissà quale sforzo creativo, perché per me quello è il massimo, però quella roba lì non è considerata opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore, perché chiunque avesse comprato, avesse in casa quel modello di tastiera o quel modello di sequencer avrebbe fatto una cosa identica. Quindi non c'è quella sufficiente creatività, quella originalità, quello spunto creativo che fa scattare la tutela del diritto d'autore. E questa cosa la vedremo più volte, soprattutto quando c'è la parte sulle fotografie, sulle immagini, quando vedremo quella parte, capirete appunto come la legge italiana fa una distinzione tra fotografie che hanno meno carattere creativo, o fotografie che non ce l'hanno o che ne hanno molto poco e quindi a quelle dà una tutela minore. Va bene, allora vediamo cosa dice questo articolo. Ah ecco, scusate, altra annotazione. La legge che ci accompagnerà per tutto il corso è quella lì che trovate in alto, cioè legge 633 del 1941. Sapete che le leggi vengono individuate con un numero progressivo e l'anno in cui sono state approvate e la legge italiana sul diritto d'autore è ancora quella del 1941. Non vi deve creare particolare sconvolgimento questa cosa, cioè è una legge che è del 1941 ma è stata più e più volte aggiornata, modificata, tagliata e rimodellata, quindi non è così vecchia. Ecco, e direi che non è neanche scritta così male, nel senso che forse era in un periodo in cui i giuristi avevano una cura migliore anche a livello di linguaggio e di concezione delle norme. Quindi non lo so, da tempo si discute se sia il caso o meno di riscriverla totalmente, adesso arriverà una direttiva europea che cambierà ancora un po' le cose, anzi l'avrete sentito parlare perché coinvolge direttamente le biblioteche. E quindi in quell'occasione alcuni avevano sostenuto che fosse il caso di appunto cogliere la palla al balzo e approvare un nuovo testo normativo, però questo qua in effetti per ora funziona e ce lo stiamo tenendo da un bel po' di anni. Dice, quindi abbiamo detto, sono protette i sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono, e da qua fa una sorta di elenco dei campi in cui si estrinseca la letteratura, la letteratura, scusate, la creatività umana, fra cui appunto la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro e la cinematografia. E poi aggiunge qualunque ne sia il modo la forma di espressione, cioè lascia il campo diciamo a un'ulteriore interpretazione di questo elenco, quindi non va inteso come un elenco chiuso, e infatti se ci fate caso le forme di creatività di oggi, cioè quelle legate al digitale, al multimediale, non vengono espressamente menzionate, però comunque sono l'incrocio un po' di queste cose. Cioè pensate a un sito internet, a una pagina web, a qualcosa che porta sia elementi di testo, letterari, sia arte figurativa perché c'è la grafica, e poi magari cinematografia o videografia perché ci sono dei video, ci sono delle animazioni. Ecco, tipico esempio, un'opera multimediale come questa, prende dentro elementi, prende elementi da queste tre diverse forme di creatività che sono quelle classiche. Il secondo comma però aggiunge che ci sono altre due nuove forme di creatività che ovviamente nel 1941 il legislatore addirittura non poteva nemmeno immaginarsi, oppure doveva avere molta, molta fantasia per immaginarsi, ovvero il software e le banche dati. E infatti, dice, sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie, ho tagliato un po' qua la norma perché se no era molto lunga, cioè da una definizione di software che poi magari ci ritroviamo in altre slide dopo, e poi dice, nonché le banche didattiche per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Quindi, due nuove forme di creatività che sono arrivate negli anni 90, infatti questo comma è stato aggiunto successivamente negli anni 90, per, diciamo, dietro spinta di direttive europee, come tutte ormai le grandi innovazioni che abbiamo in questa legge, vengono dalla, diciamo, dall'input di direttive europee, e appunto sono i software e le banche dati. Attenzione ad una cosa interessante, allora, in questo corso, rivolto appunto alle biblioteche, forse di software parleremo poco, sinceramente, perché non credo che si sia un'attività di sviluppo software da parte vostra. Magari di banche dati sì, perché la gestione di un archivio, di un archivio, di un OPAC, è, a tutti gli effetti, la creazione, la gestione o l'acquisizione di una banca dati, no? Pensate alla biblioteca universitaria che acquisisce gli abbonamenti per le banche dati di riviste scientifiche, no? Quella roba lì, oppure, pensate allo studio legale di un avvocato che deve pagare l'abbonamento alla banca dati di Giuffreo di solo 24 ore per avere le sentenze e i testi normativi, no? Quelle sono banche dati, quindi può essere che questo vi interessi. Però volevo mettere giusto l'accento su queste tre paroline, come opere letterarie, cioè associa, assimila il software, i programmi per il lavoratore all'opera letteraria. E se qualcuno di voi ha un po' idea di cosa voglia dire sviluppare software, anche lì non dovrebbe disorientarvi molto questo, perché il software si scrive in forma di codice, di linguaggio di programmazione. Quindi la scrittura di software è un tipo di creatività che assomiglia molto alla scrittura di un manuale tecnico, di un manuale di istruzioni per far funzionare la macchina, per far fare qualcosa ad una macchina. E quindi poi noi non vediamo davvero il codice, noi fruitori non vediamo davvero il codice sorgente, vediamo il software, come dire, installato, no? La sua interfaccia grafica, che è un'altra cosa. Però lo sviluppatore che crea il software lo crea in forma testuale, in forma di codice, di linguaggio, e quindi l'associazione più logica era quella dell'opera letteraria. La seconda norma che abbiamo, che è sempre tratta dalla solita legge, la legge 733 del 41, è sostanzialmente un'ulteriore, diciamo, precisazione di questo elenco che già compare in articolo 1, suddiviso però adesso in dieci diverse categorie, quindi più netto come elenco, più netta come distinzione. E queste sono le dieci categorie di cui si occupa, le dieci categorie di opere creative, di cui si occupa la legge sul diritto d'autore italiana. Vuol dire che se qualcosa, cioè se noi ci stiamo interrogando sulla tutelabilità o meno di un qualcosa, cioè di un tipo di creazione, e non lo ritroviamo in questo elenco di dieci, è, come dire, è un campanello d'allarme, cioè ci deve venire il dubbio che forse non siamo nell'ambito del diritto d'autore, no? Quindi, non so, vedrete che tra queste dieci non c'è le invenzioni industriali. Perché? Perché le invenzioni industriali sono tutelate da un altro istituto giuridico che si chiama Brevetto per Invenzione, ok? Quindi qua cosa dice? Il punto 1 parla di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. interessante anche questo, cioè un'opera letteraria come, diciamo, come dai tempi di Omero si trasmette anche in forma orale, no? Quindi la stessa lezione che io vi sto tenendo è un'opera letteraria, cioè se dopo che abbiamo registrato questo video qualcuno si mette lì a sbobinare, a sbobinare tutta la mia lezione, viene fuori una specie di dispensa sul diritto d'autore. E quella roba lì è un'opera letteraria di cui io ho i diritti, anche se è stata trascritta, però se è una mera trascrizione, colui che l'ha trascritta non ha nessun diritto, perché è una semplice trascrizione, non ha un'attività creativa. L'attività creativa è ancora la mia, la mia di docente che ho ottenuto questa lezione. Il punto 2 parla di opere e composizioni musicali, con o senza parole, oppure le opere drammatiche musicali, le variazioni musicali costituenti di per sé opere originale. Il punto 3 parla di opere coreografiche o pantomimiche, questo non credo che ci interessi. Il punto 4, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative similari, compresa la scenografia. Il punto 5, i disegni e le opere dell'architettura. Anche questo, in un corso alle biblioteche, non so quanto ci interessi. Ci interessa invece di più il 6 e il 7, cioè le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, perché immagino che nella vostra biblioteca alcuni abbiano anche una sezione mediateca, cioè di raccolta e messa a disposizione del pubblico di DVD, quindi con dentro opere cinematografiche. E 7, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quella della fotografia, cioè opera fotografica in senso più classico, cioè una pellicola impressionata da un raggio di luce, ma oggi superato dalla nuova tecnologia che, insomma, con lo stesso procedimento però fa qualcosa di diverso, cioè in realtà non impressiona una pellicola ma crea un file istantaneamente e quindi viene salvata su una memoria, la fotografia viene salvata su una memoria digitale. Queste 7 erano quelle che il legislatore prevedeva già nel 1941, quindi la fantasia del legislatore arrivava a queste 7 forme di creatività, queste 7 tipologie di opere nel 1941. Poi, negli anni 90 e 2000, sono arrivate queste, sono state aggiunte via via, con le direttive europee che vi ho citato prima, queste tre nuove forme di creatività. Una l'abbiamo già vista, non perdiamoci troppo tempo, i programmi per l'allaboratore, e poi parla di banche dati e ne dà una definizione, dice banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Cioè, vabbè, è una definizione un po' giuridichese, legalese di cos'è una banca dati, è interessante che dica che la banca dati può essere accessibile in modo elettronico, ma anche in altro modo, cioè la banca dati è anche quella analogica. E anche il vecchio archivio, che immagino abbiate ancora da qualche parte in biblioteca, i famosi cassettoni in cui si andava a cercare un'opera per titolo, per autore o per soggetto, erano tre criteri, quindi molto pochi rispetto alle banche dati che abbiamo oggi che ci permettono di fare mille e mila filtri su qualsiasi cosa, però era a tutti gli effetti una banca dati analogica, cioè consultabile con il ditino che scorreva all'interno di un cassetto. Anche un altro esempio classico di banca dati analogica, che viene fatto nelle aule universitarie, quando si spiega questo argomento, è l'elenco telefonico, le pagine bianche. L'elenco telefonico è una banca dati, solo che è su un librone di carta, che io sfoglio con il mio ditino nell'angolo per vedere il comune e l'ordine alfabetico del numero di telefono che sto cercando. Il punto 10, ma anche qua non ci occuperemo, perché in una biblioteca credo che interessi poco, però giusto per completezza, le opere del design industriale, che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico.